Si è corso a Fabriano in provincia di Ancona la settima prova degli assoluti di enduro 2011. Il gran caldo ha accompagnato i 120 piloti al via dando vita ad una prova sviluppata su quattro giri all'interno dei quali erano disposte tre impegnative prove speciali. Alle nove in punto i piloti hanno affrontato un breve trasferimento prima di raggiungere il fettucciato disposto su una collina ricca di sali e scena. Dopo il consueto controllo orario i piloti si sono diretti verso la prova in linea tracciata sul gretto di un fiume e all'interno di un bosco mentre la prova estrema ha messo a dura prova le doti tecniche degli atleti con impegnativi salite e passaggi su tronchi, gomme e pietraie prima di raggiungere il paddock per la conclusione del giro. Ottima l'organizzazione del già collaudato motoclub Artiglio il quale ha messo in piedi una prova davvero bella per i nostri piloti in gara. Il vero protagonista della giornata è stato il tricolore, sventolato in cielo grazie a Thomas Oldrati e Simone Albergoni i quali hanno potuto brindare al titolo con ben due prove di anticipo. Per Oldrati, al quinto titolo italiano e il settimo di carriera, la battaglia per la vittoria finale nella 2.54 tempi è stata davvero intensa fino all'ultimo giro. Ad ostacolare Oldrati ci ha pensato Andrea Becconi su KL Cavasacchi finito alle spalle del pilota bergamasco per 25 secondi. Bella la battaglia proposta anche dall'altro tricolore Albergoni il quale ha dovuto star ben attento al pilota dell'HM Honda Zanardo Edoardo D'Ambrosio che conclude la sua gara in seconda posizione a poco più di 30 secondi dal vincitore. Passando alle classifiche di giornata, l'iridato 2010 Mikaola, alfiere HM Honda Zanardo, sembra non conoscere il rivale. Nell'assoluta il pilota finlandese ha inflitto oltre un minuto a secondo classificato Rodrik Tjaini sul HM Honda Zanardo mentre la terza posizione è andata al nostro Simone Albergoni, pilota Husqvarna CH Resi. Nella 125 due tempi, Jonathan Manzi, portacolore KTM Farioli, allunga il suo vantaggio in campionato conquistando la classe davanti al solito Giacomo Redondi su Squarna CH Racing. Ad occupare il terzo gradino del podio troviamo il neotricolore Under 23 Guido Conforti. Anche oggi è andata bene, ho fatto un partito subito bene sin dalla prima prova speciale peccato per le prove estreme che due su quattro le ho sbagliate e ho accusato abbastanza di stacchi. L'ho messo bene anche come classifica assoluta, però purtroppo con quelle cadute, con gli errori è stata un po' condizionata. Comunque una buona gara e sono soddisfatto. La più bella battaglia, quella che ci hanno regalato Alessandro Botturi su Gas Gas e Rudy Moroni, pilota KTM Farioli nella 2.52 tempi. I due piloti hanno dato vita a una sfida davvero appassionante, alternandosi la vetta del podio per tutta la gara. All'entrata dell'ultima speciale, il portacolore della KTM Farioli aveva un vantaggio sul botto di 6 secondi, ma proprio all'extreme test Moroni si è incastrato sui tronchi, perdendo secondi preziosi a favore del portabandiera della Gas Gas. Quattro alla fine i secondi di stacco tra i due piloti con Maurizio Micheluzzi su Fantic Motor che fa il suo terzo posto di classe. Penso che in questo ultimo periodo mi sono allenato veramente tanto perché ci tengo questo titolo italiano e all'ultima speciale sono riuscito a dare un po' la zampatina a Rudy Moroni. Mi dispiace perché veramente oggi era veloce e davanti di 6 secondi sono riuscito a dargli 10 secondi all'ultima prova. Sono veramente contento. Peccato per me per l'ultima linea che aveva scivolato, aveva preso un po' di vantaggio Rudy, però bravo lui. Nella 2.54 tempi, come detto prima, vittoria di Thomas Soldati davanti ad Andrea Becconi e Alessio Paoli. Ma sì, dai, ci siamo salvati un po' con questo campionato vinto di Assoluto Italia visto che quest'anno non è stata una bellissima stagione per me, però ce l'ho fatta almeno a portare a casa il campionato italiano e quindi sono molto soddisfatto. Lo dedico a tutti quelli che mi sono stati vicino, che mi hanno aiutato e soprattutto a Fabio Farioli, Arnaldo, la KTM che hanno capito la mia situazione mi hanno lasciato tranquillo e penso di aver fatto la scelta giusta di saltare qualche gara perché era giusto così. Sono rientrato adesso qui all'Assoluto Italia e puntavo a portare a casa almeno questo campionato e ce l'ho fatta. La 4.50 a quattro tempi con l'ottavo titolo ipoteccato da Simone Albergoni il secondo e terzo posto di giornata vengono occupati da Edoardo D'Ambrosio e Fabrizio Di. Felicissimo, sono arrivato qui a Fabriano con 52 punti di vantaggio e era il mio obiettivo chiudere il campionato in anticipo. Sono davvero soddisfatto perché oggi è arrivata anche la terza prestazione assoluta quindi bene, un'ottima gara. Il portacolori dell'Uscana CH Racing, Alex Salvini, fa sua per la seconda volta in questa stagione la classe 504 tempi, mettendo le spalle Alessandro Belometti e Mattia Traversi. Tornata abbastanza positiva, un secondo posto, ho commesso parecchi errori però sicuramente la gara non si diceva le mie caratteristiche ho faticato molto sia nel cross test sia nelle altre speciali però un buon secondo posto in vista della chiusura del campionato dell'ultima gara a Borno. L'ultimo appuntamento stagionale con i campioni dell'enduro nazionale è fissato per il 15 e 16 ottobre a Borno in provincia di Brescia dove grazie al motoclub Sebino andrà di scena l'ottava e non la prova stagionale che decreterà i nuovi campioni 2011. a Borno in provincia di Brescia